Io ci so che questa sera ridà in un certo qual modo alla città uno degli angoli più belli, Ortotellini. Sì, questo è un angolo che forse per più di vent'anni è rimasto non contaminato dalle persone ma da altro. Secondo noi, questo lo dicevamo già da subito anche in sede di conferenza stampa, questo è uno snodo centrale tra il centro urbano e il lungomare cittadino. Secondo noi questo può essere il nuovo punto di riferimento di una città che vuole crescere anche a livello culturale. Noi affronteremo delle tematiche importanti come abbiamo fatto già in precedenza. Questa formula è nuova per noi, questa quattro giorni. Noi abbiamo sempre provato formule differenti quindi è anche una sfida che ci stiamo ponendo come associazione. A Crudone per raccontare una serie televisiva in modo particolare per focalizzare l'attenzione su due donne che hanno in un certo qual modo nel bene e nel male fatto la storia di questo paese. Quello che abbiamo cercato di fare è stato non giudicare ma dare gli elementi a chi guardava la serie per farsi una propria idea. A me mi ha molto colpito che molta gente è venuta a dirmi alla fine della serie è certo che questa madre è completamente plagiata dalla figlia e altri mi vengono a dire no però la figlia poverina è una vittima della madre. Io non so chi sia cosa. So che sicuramente per la mia idea di documentario, docu-serie, chiamiamola come vogliamo ma alla fine il concetto è quello. L'importante è che un minuto dopo che tu hai finito di vederla ti resta la voglia di continuare a pensarla, di aprire Google per cercare qualcosa che pensi che io non ti abbia detto per dire che avremmo potuto raccontarla meglio o raccontarla peggio. La docu-serie su Vanna Marchi racconta proprio non soltanto una persona ma un periodo storico e questi film, questi generi biografici sono molto richiesti dal mercato, mercato italiano e mercato internazionale. Come produttori noi cerchiamo di ovviamente, andiamo a ricercare delle storie che possano appassionare, che possano appassionare in primis chi le sceglie e in subordine ovviamente il mercato perché noi strizziamo sempre l'occhio al target di mercato.